Buon salve a tutti ragazzi e benvenuti in questione, io sono il vostro Femo e oggi purtroppo non parlerò di niente però vi volevo dire che la casa vecchia non c'è, abbiamo traslocato e questo qua non è dove registrerò nei prossimi video ma a volte registrerò qua negli altri video registrerò, cioè andrò un po' più avanti quindi sarà tipo, starò tipo così quindi quella casa nuova l'abbiamo abbandonata, cioè abbandonata in senso, adesso è vuota e cercherò perché l'ultima volta che ci sono andato nella casa vecchia detto che abbiamo traslocato è tutta vuota e quando urlavo ci stava un eco quindi nei prossimi video cercherò di farvi vedere la casa vecchia e nei prossimi video spero che, però non sono sicuro perché non penso che me lo faranno fare, di farvi vedere la casa nuova o almeno la stanza perciò ragazzi questo video finisce qua questo video è veramente piccolo ma volevo soltanto, questo video l'ho fatto soltanto per inaugurare la casa vecchia infatti l'ho intitolato là, addio casa e lasciate per qualunque video un like qua sotto, mi pare sì, proprio qui iscrivetevi proprio qui perché ha il telefono, perché ha il computer, non so che cronologia c'è da YouTube questo video finisce qua, al prossimo video grazie